Ed eccoci qua con un altro video, io sono Issam e questa è la Ngui X5S Di questa bicicletta ci sono varie versioni con varie potenze Di motore, la mia in particolare ha una potenza di assorbimento di 350 watt, esiste anche la versione da 400 watt Ma la mia in particolare ha una trasmissione cardanica che ero molto curioso di provare e ho provato e adesso vi dirò che cosa ne penso Esiste anche in versione con la catena normale, non ha nessun cambio, come potete notare nessuna delle versioni ha un cambio E per quanto riguarda la batteria anche lì esiste da 15 ampere ora come la mia versione da 20 ampere ora o anche da 10 ampere ora La batteria è ricaricabile sia direttamente sulla bicicletta ma si può anche tirare fuori tranquillamente e ricaricare a parte ed è disponibile anche Quindi uno potrebbe ordinare la bicicletta con due batterie eventualmente se ne avesse bisogno O potrebbe anche utilizzare la bicicletta addirittura senza Per quanto riguarda l'inserimento della batteria è molto semplice come avete sentito ha fatto bip bip Perché questa batteria arriva con la chiave, la chiave serve a bloccare la batteria ma anche accendere la bicicletta Una volta accesa la bicicletta non si può tirare fuori la chiave Una volta spenta però si può tirare fuori la chiave Non si estrae la batteria perché è bloccata E una volta inserita la chiave e sbloccata la batteria si può tirare fuori la chiave e anche la batteria La batteria è da 3 discicelle in serie quindi 48,1 volt e 54.6 quando è carica ovviamente Mi ricorda tantissimo la Newbility B14 Tutte e due le biciclette infatti hanno 14 pollici di diametro di ruota Sono delle mini biciclette ma elettriche perciò se volete una mini bicicletta questa è una bicicletta E non dovete lamentarvi che la mini bicicletta è piccola perché infatti va acquistata come tale Non solo per quanto riguarda l'estensione della gamba non serve estendere la gamba completamente Perché la pedalata in una bicicletta elettrica serve solamente ad attivare il motore Ovviamente se state cercando una bicicletta full, una bicicletta muscolare sicuramente non sarà mini Altrimenti sarebbe come cercare un micro computer e poi lamentarsi dello schermo che è piccolo Ma perché sto parlando di questo? Perché mentre nella Newbility B14 per me non era assolutamente un problema Il fatto che la gamba non si possa estendere completamente Perché come ho detto è una bicicletta elettrica e la pedalata serve solamente ad attivare il motore Se no non avrebbe senso Per quanto riguarda la Engui X5S per me che sono alto 1,70 è un problema Perché è un problema? Perché vedete che il mio ginocchio quando sale su e voglio curvare Fare una curva stretta tocca il manubrio Ovviamente per diminuire questo problema possiamo abbassare il sellino perché è ad altezza regolabile Quindi il problema si diminuisce ma non sparisce del tutto Specialmente se siete più alti di me ecco questa bicicletta sicuramente non sarà adatta Qualcun altro dirà Aissam potresti aumentare l'altezza del manubrio In realtà il manubrio si può alzare al massimo così Naturalmente questa bicicletta elettrica come la maggior parte delle biciclette elettriche che si trovano nel mercato Ha sia la possibilità della pedalata assistita si può anche ovviamente disattivare il motore e andare a pedalata muscolare Spegnendo la bicicletta in questo caso ma si può anche utilizzare l'acceleratore Che in questo caso non è una specie di grilletto ma è un vero e proprio acceleratore Naturalmente se vogliamo utilizzare esclusivamente l'acceleratore questo problema non ce l'abbiamo Perché i pedali utilizziamo solamente per appoggiare i piedi E credo proprio che questa bicicletta è stata progettata tenendo in considerazione di utilizzare quasi esclusivamente l'acceleratore Il quale qualcuno lo considera illegale io personalmente non lo considero illegale Il motivo di questo è molto semplice perché la legge si disciplina le biciclette a pedalata assistita Dicendo che il motore deve essere attivato completamente e disattivato dalla pedalata Però avere l'acceleratore sulla bicicletta non fa della bicicletta un motorino Infatti c'è stata anche una sentenza a proposito di questo che ha annullato una multa a un ragazzo che aveva l'acceleratore E finché la legge non disciplina questa cosa in realtà siamo in un limbo Per quanto riguarda la velocità massima che può raggiungere questa bicicletta con l'acceleratore di 30 km all'ora con il mio peso Probabilmente 32-33 con qualcuno di meno pesante di me Che è una velocità maggiore rispetto alla Newbility B14 Per quanto riguarda invece la coppia e l'accelerazione la Newbility ha più coppia L'accelerazione è simile ha più coppia in salita Siamo ai 23 all'ora, 22 Sento che sta perdendo, siamo a 21 Siamo a 20 all'ora Comunque tiene, siamo a 20 all'ora 21 in ripresa Claxon, funziona, non ci sono cali di tensione E restiamo ai 20 all'ora Qua la discesa si fa più dura, siamo ai 19 all'ora Cosa che non mi aspettavo, sinceramente mi incuriosiva il tipo di batteria nuovo da provare Ovviamente questo a causa della differenza di potenza del motore Perché qui abbiamo 350 watt invece la Newbility a 400 watt Per quanto riguarda il sellino qua Come potete notare è molto comodo rispetto alla Newbility Che secondo me andrebbe montato proprio un sellino dietro o un portapacchi Qua ce l'abbiamo proprio un sellino La cosa che mi è piaciuta tantissimo invece in questa bicicletta E l'ammortizzazione Ed è vero che questa bicicletta ha solamente un ammortizzatore regolabile davanti Non ha nessun ammortizzatore dietro Però probabilmente la posizione del sellino La forma del sellino e anche la qualità degli ammortizzatori del sellino È fantastica Infatti l'ammortizzazione è talmente buona Che abbiamo pensato di fare i salti con questa bicicletta Salta Non fate i salti O almeno non dimenticate di chiudere la leva di sicurezza del manubrio Una cosa però che non mi è piaciuta di questa bicicletta È il fatto che la pedalata assistita arriva al massimo a 15 km all'ora Non va oltre E questa è un ulteriore conferma che questa bicicletta è stata pensata da utilizzare con l'acceleratore Quanto pesa questa bicicletta? Sul sito c'è scritto 30 kg In realtà io l'ho pesata ed è solamente 25 kg Non so se il peso sul sito era scritto della versione con catena O della versione con una batteria da 20 Ah Insomma questa versione pesa solamente 25 kg E quanta autonomia ha con una ricarica? Beh riesce a fare circa 40 km solamente con l'acceleratore E purtroppo non ho potuto provarla con la pedalata assistita Non tanto per questo problema qui Ma perché come ho detto prima La pedalata assistita arriva solamente a 15 km all'ora Per quanto riguarda la mia esperienza con la trasmissione cardanica Sinceramente a livello pratico di pedalata non ho trovato nessuna differenza Però sicuramente è una cosa positiva Perché non si sporca, non c'è una catena che si sporca Non c'è una catena che si può ossidare Bisogna oliare Qua è tutto sigillato Non dovete fare nessuna manutenzione Non vi sporca i pantaloni Cosa da non poco Specialmente se uno vuole portare questa bicicletta al lavoro Che è una bicicletta in realtà fatta per questo Da portare al lavoro Da portare anche in macchina, in giro Infatti una volta tolto il sellino Aperta la sicurezza La bicicletta diventa talmente piccola Che si può mettere dovunque La Engui X5S arriva sia con il telecomando E anche con la chiave E con tutto il resto che abbiamo visto In questo video di unboxing Dove abbiamo parlato anche della batteria Del caricabatterie eccetera eccetera Anche del lucchetto che arriva con la bicicletta Vi faccio vedere una cosa molto interessante Di questa bicicletta che mi è piaciuta tanto Perché si può accendere direttamente con la chiave Come potete notare adesso Giro la chiave La bicicletta si accende Ma se tolgo la chiave La bicicletta si spegne E tolgo completamente la chiave Posso comunque accenderla O spegnerla O anche attivare o disattivare l'allarme Direttamente con il telecomando Sul manubrio della parte sinistra Abbiamo lo switch per accendere e spegnere le luci Sono tutte e due luci a let Sia davanti che dietro Ma dietro abbiamo anche un catarifrangente Per quanto riguarda la luce dietro Funziona anche da stop lampeggiando Una volta che abbiamo premuto la leva del freno E i freni sono a disco meccanici Sia davanti che dietro Qui sotto abbiamo un altro switch Questo switch decide la velocità massima Che si può raggiungere tramite l'acceleratore Proviamo la velocità Uno a vuoto arriva a 20 km all'ora Due arriva a 24 km all'ora E tre arriva a 29 km all'ora Ovviamente come potete notare Qui abbiamo la batteria scarica Sennò sarebbe arrivato a 35 km all'ora Il clacson è abbastanza audibile E buono direi Ed è integrato all'interno della luce anteriore Sul lato destro abbiamo un display Che non definirei multifunzione Perché non ha la funzione Tranne di mostrare i nostri dati Che sia il voltaggio della batteria Il tempo e la durata del viaggio E quanti chilometri abbiamo fatto al massimo Non abbiamo neanche la possibilità In realtà di switchare tra uno e l'altro Ma scorre automaticamente Ci fa vedere le cose a tempo Qui sotto abbiamo il bottone del cruise control E una volta che abbiamo mantenuto l'acceleratore A una certa posizione Se clicchiamo il cruise control E poi lasciamo l'acceleratore Vedete che la bicicletta Continua a mantenere Non la stessa velocità Ma come se fosse mantenuto L'acceleratore alla stessa posizione Poi se acceleriamo di più O freniamo Ovviamente si stacca il cruise control La bicicletta dispone anche di un porta cellulare Con una porta USB Per ricaricarlo qui sotto Spero di aver soddisfatto Tutte le vostre curiosità A proposito di questa bicicletta A trasmissione cardanica Se avete delle domande Lasciatele giù nello spazio commenti Come al solito vi lascio il link Il coupon sconto nella descrizione del video Potete anche cliccare qua Nel frattempo vi saluto E adesso scappo che sta per piovere